Era una grande squadra Cuneo, era per me la miglior squadra a tal inizio. Abbiamo giocato non perfetto, però non è male. Dopo due set abbiamo riuscito a rivenire e vincere le due ultime set. E nel quinto set abbiamo fatto troppo errori e l'esperienza ha parlato per loro. Ma che cosa dovete migliorare secondo te per evitare questi cali di tensione? Dobbiamo migliorare tutto. L'obiettivo è il play-off, quindi dobbiamo imparare come una squadra, giocare il nostro migliore. Tutti i settori, battute, tutto. Quella che poi vi aspetta sarà una partita importantissima contro un avversario di Vennio. Sì, Grottazzolina ha vinto tutto. Quindi vediamo e facciamo il nostro migliore. Concentriamo su il nostro gioco e i nostri punti di forza e vediamo la partita. Come si ferma Grottazzolina? Dicevi squadra imbattuta, prima in classifica. Come si può provare a fare l'impresa e a vincere contro di loro? Non abbiamo niente da perdere, quindi proviamo di essere bravi, di avere il piacere di giocare insieme. Vediamo, abbiamo una buona squadra, quindi possiamo fare grande cose. Quindi vediamo la partita. Senti, era la prima partita, la scorsa, che avete giocato qui in casa, no? Che emozioni c'erano? Per la prima volta qui, insomma, che per te che sei nuovo. È una grande cosa. Andare a Santa Croce è perfetto per tutti, gli spettatori, noi, il club, tutto. Quindi no, era una grande cosa. e c'è 700 spettatori, quindi per la prima partita è buona. Quindi sì, dobbiamo ancora crescere, però sì, è un piacere di tornare.